Il regno di Dio è vicino, è già in mezzo a noi, è la bella notizia che Gesù ci porta ed è il messaggio centrale di ogni missione cristiana. Non dobbiamo attenderlo nel futuro, ma in qualche modo è già presente, possiamo sperimentarne fin d'ora la potenza spirituale se ci convertiamo. Lo ha ricordato Papa Francesco prima della preghiera dell'Angelus, commentando il Vangelo di questa seconda domenica d'Avvento e l'invito di Giovanni Battista convertitevi perché il regno dei Cieli è vicino. Il regno non riguarda solo la vita eterna, ha spiegato il Papa, perché con Gesù Dio viene a stabilire la sua signoria nella nostra storia, nella nostra vita di ogni giorno e là dove essa viene accolta con fede ed umiltà germogliano l'amore, la gioia e la pace. La condizione per entrare a far parte di questo regno è compiere un cambiamento nella nostra vita, cioè convertirci, convertirci ogni giorno, un passo avanti ogni giorno. Si tratta di lasciare le strade comode, ma afforvianti, degli idoli di questo mondo, il successo a tutti i costi, il potere a scapito dei più deboli, la sette delle ricchezze, il piacere a qualsiasi prezzo, e di aprire invece la strada al Signore che viene. Egli non toglie la nostra libertà, ma ci dona la vera felicità. Con la nascita di Gesù, ha chiarito ancora Papa Francesco, Dio viene in mezzo a noi per liberarci da questi idoli atteggiamenti, che sono del diavolo, dall'egoismo, dal peccato e dalla corruzione. Ci prepariamo spiritualmente al Natale, in questo tempo d'avvento, ha concluso il Pontefice, quando esaminiamo la nostra coscienza, quando scrutiamo i nostri atteggiamenti, quando con sincerità e fiducia confessiamo i nostri peccati nel sacramento della penitenza.